Saluto a tutti dal canto nuovo, siamo molto contenti di essere non solo con voi che guardate questo video, ma anche insieme a tutti gli altri in sala. Ho un rientro proprio nelle casse. Dunque, la gestione delle risorse è il tema che ci sta accompagnando. Voglio invitare tutti quanti a leggere il Vangelo e trarre delle riflessioni, non dei tentativi di indovinare qualcosa o di costruirsi un pensiero speculativo, quanto piuttosto di intuire la realtà che sta dentro quelle parole. È una cosa eccezionale perché ci riporta alla realtà della nostra vita. Gesù disse le mie parole sono spirito e vita. Dove c'è lo spirito coinvolto c'è sempre la realtà di Dio della storia con l'uomo. E questo ci fa rendere il messaggio di Gesù e le sue parole molto aderenti a quello che sperimentiamo ogni giorno. Dunque, la soluzione soprannaturale è uno dei principi di stasera che in particolar modo tratterà questo argomento. Velocemente voglio trattare due principi prima di questo che riguardano la misura del Signore. Come vedete il principio numero 36. Non puoi avere di più e niente di nuovo se hai le mani ancora occupate dal vecchio. Vinci l'egoismo e la paura di rimanere senza denari o, se volete, senza risorse. Fate pure come preferite per riuscire ad entrarvi dentro il tema. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che un passo del Vangelo che ha molte prospettive possibili e molti messaggi può contenere oltre a quello che vediamo stasera, a noi ha suscitato questo. Cioè che se quello che abbiamo non siamo pronti a farlo circolare, al di là del superfluo, proprio toglierci di mano il vecchio, non possiamo ricevere il nuovo. E per fare questo occorre vincere l'egoismo e non avere paura di rimanere senza le risorse. In pratica staccare il nostro cuore dalle risorse fa sì che possiamo ricevere ciò che di nuovo ha pronto Dio per noi. Questo non riguarda solo le risorse materiali, quindi il denaro come in questo caso, ma riguarda qualsiasi cosa. Pensate alle situazioni, le circostanze della vita dove le persone restano ancorate al vecchio. Parlo del lavoro, parlo di amicizie, di cerchie di amicizie, parlo di situazioni che in genere viviamo. La persona ha difficoltà a comprendere questo principio che Dio ci vuole dare cose sempre nuove e quindi per consegnarcele è come se noi facciamo, ecco ad esempio prendo questa Bibbia, se io ho questa Bibbia in mano e Dio vuole mettermi in mano altro di nuovo, finché io non poso questa, non ho le mani libere per prendere il nuovo che il Signore vuole darmi. È un principio molto banale, molto semplice, si può fare con una piccola dimostrazione, ma applicato nella nostra vita trova un ostacolo, un problema, il nostro attaccamento alle cose che già abbiamo, comprese le circostanze. Un esempio di quale sia la misura del Signore, nel senso di far circolare le risorse, di non essere attaccate a quel che abbiamo, è la parola che troviamo in Luca 21.1.4, per esempio la storia della vedova che da più di tutti mettendo i suoi pochi spicci nella cassa delle offerte. Noi abbiamo ricavato quel principio da questa storia, ripeto ci sono molti altri significati in questa storia, eppure quello ci è balzato agli occhi per il tema che stiamo affrontando. Questa donna aveva solo quei due spiccioli e non ha esitato a farli circolare, metterli nella cassa delle offerte, anche se non era il superfluo, bensì ciò che le serviva per vivere. E Gesù, che era molto attento a cosa succedeva intorno alla cassa delle offerte, perché? Perché Gesù è il proprietario, è il Signore, lui è il proprietario di ogni risorsa che abbiamo. E il suo interesse, come vedete, era nel vedere ciò che le persone facevano dei denari che avevano a disposizione, cioè che ne fai di quello che io ti ho dato, sembra dire. E lui si metteva accanto alla cassa delle offerte e guardava le persone che cosa facevano. È interessato Dio a capire, vedere, scusate capire, non si può usare questa parola per lui, a vedere quello che noi facciamo. È interessatissimo. Con che cosa? Con le risorse che ci dà. E dunque lui vide che questa poveretta, questa veda, metteva tutto quel che aveva, la lodò e disse che aveva messo più di tutti, perché gli altri avevano messo il superfluo e lei quello che aveva per vivere. Dunque, ecco il messaggio è questo, molto semplice, lo chiudo subito. La misura di Gesù è più grande di quella che fino ad oggi abbiamo detto che serve a mettere in moto la circolazione delle risorse nel regno di Dio. Chiunque ha del superfluo lo dia e lo faccia circolare a chi non ne ha. Questo mette in moto il benessere comune, comunitario e condiviso. Ma Gesù ha una misura più ampia, una misura ad ampio raggio, che cioè dice non dare via solo il superfluo. Se dai via tutto quello che hai per vivere, io che guardo ciò che fai di ciò che è mio e che ti ho dato perché faccia frutto avrò parole di grande loggio. È qualcosa di più. Ebbene, qual è il problema qui che una persona può incontrare nel dare via ciò che gli serve per vivere? Il suo egoismo e l'attaccamento alle cose che ha. Quasiché privarsene comporti un perdere la sicurezza di poter vivere. Fermi un po', ma se così è, allora la mia sicurezza non è Dio, ma sono le cose che mi trovo tra le mani. Ecco perché in questi casi, come nel caso del giovane ricco, ricordate Gesù, gli disse va bene, vuoi seguirmi? Dai via tutto e poi vieni. E questo che aveva, dice la storia, che era molto attaccato al denaro, si rattristò tanto e se ne andò mesto. Ecco, questa è un po' la storia. Al contrario, questa vedova che aveva pochissimo e quindi quei due spiccioli servivano per vivere, non ha esitato a usare quei denari per il Signore. Questa storia è veramente, è il contrario della storia del giovane ricco, proprio è un opposto. Vedere come Dio apprezza. Ma che vuol dire apprezza? Io mi sono chiesto questo. Gesù dice, vi dico, questa povera vedova ha messo più di tutti. Apprezza vuol dire che questa donna è degna della sua fiducia per l'amministrazione delle sue cose. Più di tutti. Non che gli altri non lo siano. Ecco, volevo fermarmi su questo. Più di tutti non vuol dire che gli altri non hanno fatto niente, che non sono degni di fiducia per l'amministrazione delle cose di Dio. Lo sono, ma lei è più di tutti. E Gesù fu chiaro e disse, a chi ha sarà dato ancora di più, mentre a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E' un po' tutto il contrario di quello che potremmo pensare noi. Dunque, questo è il messaggio di grande speranza. Cari amici, se pensiamo di aver, dando via al superfluo, esaurito tutte le possibilità di gestione delle risorse, Gesù ci dice, no, c'è ancora di più, puoi andare anche oltre. E puoi dare via anche quello che non è superfluo, ma che ti serve addirittura per vivere. Questa storia ci insegna molto. L'ho chiamata la misura di Gesù e le mani vuote. Ripeto, per chiunque sia in attesa di qualcosa di nuovo nella sua vita, finché tieni il vecchio nelle mani con un senso di paura se lo molli o di egoismo se lo dai ad altri, il nuovo non può arrivare. Io spero che questo, invece di preoccupare le persone che ascoltano, dia un senso di speranza. Perché nel momento in cui mi rendo conto che sto tenendo delle situazioni ormai vecchie, esaurite, è come tenere delle pile scariche nell'apparato o nel registratore, ora io, o nel microfono e non volerle dar via per mettere le nuove perché sono pile. E quelle nuove non le vedo ancora e se do via quelle vecchie, poi nemmeno quelle ci sono, magari si possono ricaricare un domani. Ecco, è quello il senso. È come un non saper andare oltre con la fiducia. Dunque Dio risponde con fiducia alla fiducia che l'uomo ha nella provvidenza del Signore per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Andiamo avanti. Un eco, come ho citato la storia del giovane ricco a questa storia della vedova povera. Sono due estremi. Giovane ricco se ne andò via triste e non dette niente via. La vedova povera dette via tutto e nemmeno vuole farsi vedere in sostanza. La misura di Gesù le mani vuote ha un eco non solo in tema di risorse finanziarie o economiche ma in tema di perdono. Questo, chi dà via tutto, anche quello che gli serve per vivere, questa misura così grande di Gesù la ritroviamo per esempio qui quando Gesù dice a Pietro che aveva chiesto quante volte allora devo perdonare mio fratello se pecca contro di me e Gesù gli disse infinite volte nel modo di parlare di allora si diceva 70 volte. Sette voleva dire senza fine. Non c'è un numero di volte che devi perdonare ma puoi perdonare quante volte vuoi senza fine. Ecco la misura di Gesù nell'applicare la volontà del padre sia nella gestione delle cose che nel dare il perdono e nel vivere le relazioni con gli altri è senza fine, è una misura amplissima nella quale tutti abbiamo il nostro spazio. È qualcosa di eccezionale secondo me perché ci allarga l'orizzonte. Tutto quello ci allarga l'orizzonte genera speranza. È per questo che noi vogliamo dare questo messaggio stasera. Principio numero 37. Il successo passa dal servire noi stessi e i nostri doni agli altri non dal dominarli. Se vuoi essere un grande servi te stesso agli altri disinteressatamente per il loro benessere e progresso. Questa storia l'ho già raccontata. Non ci voglio tornare tanto più sopra. È il principio che è messo in modo un po' diverso perché suscita proprio questi inviti che Dio ci fa. È la storia, poi tornerò al principio, di quando Giovanni e Giacomo o meglio la mamma di entrambi presili per mano, li portò da Gesù e disse i miei figli vorrebbero stare un lato a destra, un lato a sinistra, nel tuo regno signore vogliono essere grandi ministri, i più grandi. Gesù disse voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Nel mondo funziona così. Nel mondo i principi, cioè coloro che hanno il potere, signoreggiano, cioè si comportano con le nazioni, le nazioni sono le etnie, è gente, sono persone. Che fanno con le persone? Coloro che sono i detentori del potere nel mondo usano le persone come se fossero di loro proprietà. Questo è un po' il senso di quello che dice Gesù e i grandi le sottomettono al loro dominio. Ecco Gesù dice dunque i sistemi del mondo funzionano così. Il potere viene gestito per sfruttare le persone come se fossero cose di proprietà di chi ha il potere. Ma tra voi non è così. Ecco la differenza. Qual è dunque la regola divina per poter funzionare sulla terra non come funzionano i sistemi del mondo ma come funziona il regno di Dio. Come funziona? Chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. Chiunque vuole essere primo sarà vostro servo. Riprende le parole principi e grandi della terra, del mondo e così se voi volete essere grandi e primi siate servi degli altri. Che vuol dire? Essere servi vuol dire forse essere come dei tappeti per essere calpestati. Alcuni che sono religiosi usano queste parole per dire cerco anche di aggiungere della sofferenza a questo mio servire gli altri perché è quello che mi dà merito. Gesù disse appunto come figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Nella parola servo Gesù intende questo come vedete fare il riferimento a se stesso cioè servire gli altri vuol dire dare il meglio di sé Gesù aveva la sua vita come meglio di sé dare la sua vita per coloro che non l'hanno perché lui è venuto a salvare come ha dato la sua vita perché noi eravamo prigionieri della morte e dunque servire gli altri vuol dire mettere a disposizione degli altri ciò che noi abbiamo ed è il meglio di noi ma che gli altri non hanno e che se l'avessero sarebbero nello scopo sarebbero felici e salvi dunque questo è qualcosa di molto importante guardate il successo passa dal servire il successo di Gesù da cosa è passato? Ha servito se stesso e i suoi doni a noi lui ha fatto questo ha servito vuol dire ci ha portato ci ha consegnato se stesso la sua vita e tutti i suoi doni nei quali siamo stati riempiti dal suo spirito che è venuto a dimorare in noi che abbiamo creduto in lui e non ha cercato di dominarci non solo ha offerto la sua vita e poi si è messo a disposizione per coloro anche durante la sua vita terrena di coloro che volevano la sua persona non ha imposto mai la sua presenza a qualcuno non ha mai chiesto a nessuno di comportarsi in un certo modo per poter avere la vita che lui era venuto a portare non ha mai ricattato nessuno non ha mai dominato nessuno non ha mai signoreggiato nessuno sebbene fosse il signore di tutti questo è l'insegnamento che Gesù ci ha dato se vuoi essere un grande e Gesù è stato il grande no un grande il grande servi te stesso agli altri lui ha fatto così disinteressatamente questa per me è stata la parola la chiave in questo principio la motivazione la motivazione è per il benessere il progresso degli altri e la motivazione sta nell'adempere il nostro scopo cari amici così come parliamo di muovere le risorse sulla terra perché il regno di dio festi la sua capacità di soddisfare i bisogni di tutti coloro che dio ha creato così anche il far circolare il perdono la vita che noi abbiamo ed altri non hanno questo mette in moto un meccanismo soprannaturale che non è di questo mondo perché è il contrario Gesù ritorno lì disse sulla terra quelli che appartengono al mondo cioè quel sistema mondo è cosmos in greco sistema che cioè è il sistema organizzato da chi dal principe di questo mondo chi è il principe di questo mondo il diavolo quindi dice nel sistema diabolico si fa così si trattano le persone come se fossero di proprietà dei potenti tra voi nel mio regno non è così nessuno è di proprietà di un altro ma chi ha qualcosa che gli altri non hanno abbia la motivazione di servirla per il loro progresso questo mette in moto un meccanismo di liberazione di abbondanza di vita che altrimenti sulla terra non possiamo vedere ecco il nostro invito è proprio questo come sentite non è limitato alle risorse la gestione delle risorse è un tema grande che ha raccolto tutto poi è proprio un modo di vivere diverso che Gesù ci ha insegnato questo è in marco lo stesso principio ed introduciamo l'ultimo con questo voglio concludere per questa sessione che poi mi ha ispirato per dargli il tema cioè la soluzione è soprannaturale le soluzioni ai problemi economici che abbiamo in questa dimensione naturale può venire solo dal soprannaturale Gesù di Nazareth è Dio che si è fatto uomo per dirci come le cose funzionano secondo il suo disegno originario se attivi il regno di Dio sulla terra ciò che Dio vuole in cielo viene realizzato sulla terra credi in Gesù Cristo e fa ciò che egli ha detto perché si realizza quel piano eterno per noi sulla terra mentre ripeto mentre la religione le religioni cercano di portare la terra in cielo questo è quello sforzo continuo che gli uomini fanno diciamo per poter in qualche modo godere della presenza di Dio ecco Dio ha sorpreso tutti e Dio ha portato il suo regno in terra ha fatto proprio il contrario quindi la beatitudine la felicità che è il tema che tratterò una volta finita questa serie la felicità sentite che tema enorme basta leggere Matteo 5 insomma felici quelli che sono poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli felici la felicità lui ci dà un codice della felicità oggi facciamo i codici dell'urbanistica dell'ambiente dei rifiuti addirittura ma Gesù ha fatto il codice della felicità e io voglio trattare di questo argomento comunque andiamo avanti bene forse ho un po' perso il filo del discorso non importa riprendo da qui e sto dicendo che sulla terra non c'è possibilità di attivare quel sistema di felicità se si cerca di attivarlo secondo i sistemi del mondo è impossibile perché perché se il mondo e mi spiego ancora io distingo la parola terra dalla parola mondo la parola terra è il pianeta fisico la parola mondo indica tra le altre cose oltre all'universo nel suo insieme oltre all'insieme degli abitanti che sono sulla terra spesso nel nuovo testamento questa parola che in greco è cosmos indica i sistemi organizzati che regolano il modo di vivere sulla terra il nuovo testamento ci invita a non amare il mondo Dio dice io ho tanto amato il mondo da mandare il mio unico figlio ma questo sembra un contro sé quindi che vuol dire che ci sono vari mondi cioè vari sistemi organizzati Dio ha il suo sistema si chiama regno di Dio ma sulla terra dice c'è un altro sistema cosmos il cui principe è il diavolo quindi tutti i sistemi della terra che non sono quelli del cielo ma della terra nati dalla terra venuti dalla terra dall'iniziativa diabolica possono risolvere i problemi che lo stesso diavolo ha portato sulla terra Gesù disse il diavolo non scaccia il diavolo Satana non scaccia Satana ma come potete pensare che questa cosa possa reggere un regno non può reggersi se è diviso in se stesso come possiamo noi pensare di risolvere i problemi della nostra società usando i criteri il sistema di riferimento e i valori che sono venuti dal mondo che giace sotto il potere del maligno piuttosto che dal regno di Dio è impossibile ecco perché la soluzione ai problemi economici per esempio qui ora anche di grande attualità la crisi che sta tanagliando la maggior parte dei paesi globalmente la soluzione non può avvenire dal sistema che ha creato la crisi perché se cerchiamo la soluzione lì abbiamo fallito prima ancora di iniziare dunque la soluzione può avvenire solo da un altro mondo solo da un altro mondo cioè solo da un sistema diverso a quello che ha generato il problema ora io lascio qui ovviamente un ampio margine di discrezionalità in chiunque ascolta nel dare corpo a queste mie parole vedetele nella vostra vita qual è il sistema nel quale ora trovate un problema il sistema economico, il sistema religioso il sistema politico il sistema non so vedete dove vi e vedete se potete con i principi che regolano la vita di quel sistema che ha generato il problema eliminare il problema stesso è impossibile se così fosse l'uomo dopo migliaia di anni che cerca di risolvere i problemi sulla terra con i soliti sistemi del mondo la soluzione sarebbe venuta è solo una questione anche storica non c'è bisogno di fare tanti se la soluzione doveva venire dalla terra l'uomo avrebbe già risolto i suoi problemi a questo punto è evidente che così non è e Gesù è venuto a ricordarcelo vorrei velocemente leggere queste poche righe del Vangelo Giovanni 3 il libro di Giovanni il Vangelo di Giovanni è forse il più ricco di spunti per comprendere questa diciamo contrapposizione delle due dimensioni quella terrena e quella celeste affinché quello che sto dicendo possa essere diciamo più consistente anche nel ragionamento che possiamo mettere in campo vediamo un po' colui che viene dall'alto è sopra tutti disse Gesù colui che viene dalla terra è della terra e parla come che uno come uno che è della terra colui che viene dal cielo è sopra tutti sentite allora chi viene da chi viene dall'alto dal cielo è sopra quelli che stanno sulla terra chi viene dalla terra parla come uno che è della terra egli rende testimonianza di quel che ha visto e udito ma nessuno riceve la sua testimonianza chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero cioè sta dicendo io vengo dal cielo se venivo dalla terra parlavo come voi e non potevo darvi testimonianza di cose celestiche nemmeno potete capire in realtà disse perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio Dio infatti non dà l'ospito con misura il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano insomma c'è una contrapposizione nelle parole di Gesù chi è della terra parla come uno che è della terra ma chi è dal cielo è di sopra di tutti e guardate ancora Giovanni 5 se io rendo testimonianza di me stesso la mia testimonianza non è vera allora questo è il presupposto io non vengo dalla terra Gesù dice io non vengo io vengo dal cielo e sto al di sopra di tutti quindi io so la verità perché Dio è veritiero io ne do testimonianza so la verità voi non la sapete perché perché siete della terra quindi i problemi che hai sulla terra te li analizzi solo con i concetti terreni e trovi soluzioni solo terrene guarda che io vengo da un'altra dimensione che è al di sopra della terra quindi se vuoi trovare una soluzione al problema della terra non ragionare come uno che viene dalla terra ma prendi le parole che sono vere di Dio che è al di sopra di tutti e che non viene dalla terra è molto chiaro e qualcuno ancora si domanda ma Gesù non ha mai detto che è Dio ma sentite vi è un altro che rende testimonianza di me so che la testimonianza che egli rende di me è vera voi avete mandato a interrogare Giovanni e lui ha reso testimonianza la verità io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo ma dico questo affinché voi siate salvati che sta dicendo Gesù dice siccome io non vengo dalla terra la testimonianza di me non la dà nessuno che viene dalla terra perché nessuno che viene dalla terra sa quello che so io mi spiego meglio se un uomo avesse potuto dare testimonianza di Gesù l'uomo veniva dalla terra vuol dire che quello che diceva Gesù veniva dalla terra ma siccome non veniva dalla terra solo un altro poteva rendere testimonianza di lui chi? Dio che sta nei cieli questo sta dicendo io vengo da lui e quindi io sono uno con il padre e dopo dirà quello che fa lui io lo vedo e lo rifaccio qui e le opere che faccio mi rendono testimonianza perché non sono opere terrene solo Dio può fare le cose che io faccio egli era la lampada ardente splendente parla di Giovanni e voi avete voluto per breve tempo godere della sua alla sua luce ma io una testimonianza maggiore di quella di Giovanni perché le opere che il padre mi ha date da compiere quelle stesse che faccio testimoniano di me che il padre mi ha mandato e certo che sta dicendo il fatto che io non vengo dalla terra è dimostrato è testimoniato c'è la prova perché io faccio delle cose che solo Dio può fare quindi io sono Dio perché vengo dal cielo e faccio le cose che solo Dio può fare sulla terra ma questo è eccezionale cari amici se questo se questo si comprendesse sulla terra non nel mondo perché il mondo non può capire neanche i credenti carnali dice Paolo possono capire io parlo di cose spirituali dice Paolo parlando dei corinzi io parlo di cose spirituali e loro pensano alla carne sono credenti ma sono carnali quindi non possono capire le cose dello spirito e Gesù sta dicendo uno che è dal mondo che viene dalla terra non può dare testimonianza di Dio è Dio che dà testimonianza di se stesso perché faccio io cose che solo Dio può fare quindi se io vengo da quel sistema superiore io sono l'unico che può portarvi la soluzione ai problemi della vita che avete sulla terra continua il padre che mi ha mandato egli stesso ha reso testimonianza di me la sua voce voi non l'avete mai udita io sì Cristo dice io sì voi non l'avete mai udita io sì lo dico io il suo volto non l'avete mai visto io sì da lui vengo io sono uno con lui ancora e la sua parola non dimora in voi perché non credete in me che sono colui che egli ha mandato cioè non avete fiducia vuol dire se non avete fiducia non siete uniti a ciò che egli dice ancora voi investigate le scritture perché pensate ad avere per mezzo di esse la vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me lui dice le scritture usatele per comprendere per arrendervi che io sono Dio fatto uomo è venuto per salvare gli uomini non usate le scritture per avere la vita perché io sono la vita disse Gesù e non vengo da questa terra la vita viene dal cielo quindi vuoi risolvere i problemi della terra ricordi al sistema del cielo il mondo originario cioè il sistema che Dio aveva pensato per regolare la vita sulla terra e cioè facciamo l'uomo la nostra immagine la nostra somiglianza e domini su tutti gli uccelli del cielo i pesci del mare le bestie che stanno sulla terra su tutta la terra gli creò maschi e femmina e disse portate frutto moltiplicatevi riempite questa terra soggiogatela ecco il sistema il mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo figlio unigenito perché questo sistema si salvasse per mezzo di lui cioè l'uomo nella pienezza della gloria di cui Dio lo ha coronato insieme all'onore Salmo dice che cos'è l'uomo perché te ne curi eppure l'hai fatto poco meno di un Dio di onore e di gloria lo hai coronato e tutto gli hai messo sotto i suoi piedi questo dice il Salmo degli uomini vado avanti perché il tempo ho cinque minuti soli ancora Gesù rispose loro il padre mio opera fino ad ora e anch'io opero per questo i giudei più che mai cercavano d'ucciderlo certamente non soltanto violava il sabato ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio quindi dicendo io sono Dio era questo che loro non accettavano Gesù quindi rispose e disse loro in verità in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal padre fermi un po' ma il padre è nel cielo padre nostro lui ci insegna padre nostro che sei nei cieli ma fermi un po' se se il padre nostro è nei cieli come può Gesù dire io vedo che il padre fa una cosa e la faccio poi sulla terra vuol dire che lui è uno con Dio e da lui viene viene dal cielo viene da un altro paese dal paese del cielo sentite come Gesù sta dicendo le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente perché il padre ama il figlio gli mostra tutto quello che fa gli mostra opere maggiore di queste affinché ne restiate meravigliati quindi parla delle cose che Gesù faceva delle opere miracolose eccezionali che ammorbidiva i cuori più duri risuscitava morti moltiplicava panni e pesci camminava sulle acque calmava i venti cacciava i demoni guariva i malati cioè sono cose che solo Dio può fare con l'amore e la compassione che Gesù aveva con l'amore e la compassione che Gesù aveva la soluzione è soprannaturale in Giovanni 8 troviamo egli diceva loro voi siete di qua giù io sono di lassù voi siete di questo mondo io non sono di questo mondo allora cari amici e qui mi fermo queste parole forse andrebbero commentate con più tempo non lo so oppure forse basta anche solo questo voi pensate alle quadri disastrosi che ci sono attualmente sulla terra di guerre carestie epidemie abusi soprusi violenze corruzione cioè c'è un quadro molto grave globalmente inteso e Gesù disse io non sono di questo mondo io non appartengo al sistema che ha generato questi problemi io appartengo a un altro sistema e sta dicendo quel sistema è tale che se messo in moto attraverso il giusto attraverso l'uomo che fa quello che Dio vuole vince i problemi di questa terra i problemi quali erano? persone possedute da demoni malattie che mangiavano il corpo delle persone fame sete perché le persone non avevano niente da mangiare e da bere disastri climatici come i venti le tempeste cioè lui che cosa faceva con queste opere meravigliose mosso dalla compassione dall'amore per gli uomini questo contraddistingue è l'opera di Dio mosso dalla compassione dall'amore per gli uomini lui risolveva i problemi che sulla terra potevano togliere la vita agli uomini dando vita eliminando quei problemi come in modo sopranaturale che vuol dire sopranaturale? di un altro mondo da un altro mondo che sta al di sopra lui ha detto io sto al di sopra di voi che siete sulla terra voi siete di qua giù io sono di lassù voi siete di questo mondo io sono di un altro mondo il mio regno disse a Pilato non è di questo mondo se il mio regno fosse stato di questo mondo sarebbe venuto un esercito disse a Pilato e in 448 si avrebbe fatto fuori io non sono di questo mondo che parla di un regno dunque cari amici con questo chiudiamo questo principio ritorno alla slide al principio numero 38 la soluzione è sopranaturale viene da un altro mondo se noi possiamo attivare quel sistema quel mondo celeste sulla terra questo vince questo vince il mondo che viene dalla terra perché è di lassù non è di qua giù è superiore perché Gesù ha sconfitto il mondo lui dice io ho vinto il mondo vi ricordate quella parola non abbiate paura io ho vinto il mondo dice ai suoi io ho vinto il sistema diabolico non abbiate paura sarò sempre con voi io ho vinto il mondo questa è la garanzia una parola bellissima che Gesù ci ha lasciato quindi io sono di un altro mondo quello di lassù che è superiore voi siete immersi in un mondo qua giù sulla terra al quale non appartenete come io non appartengo al mondo che ora domina sulla terra e io ho vinto il mondo portando il regno celeste voi avete la benedizione il privilegio e il diritto di mettere in moto questo sistema perché gli appartenete quello del cielo sulla terra e vedete Gesù di Nazareth è Dio che si è fatto uomo per dirci come le cose funzionano secondo il suo disegno originario se attivi il regno di Dio sulla terra ciò che Dio vuole in cielo viene realizzato sulla terra eccezionale Dio ha fatto gli uomini in un modo stupendo e li ha coronati di onore e di gloria per questo siamo nati per dare gloria a Dio nell'onore che ci ha resi facendoci i suoi figli bene con questo noi chiudiamo l'incontro di questa sera vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima sessione con il principio numero 39 un caro saluto a tutti e vi rimandiamo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.